oh ale si hai sete si grazie ti vado a prendere un po d'acqua ok non vuoi la grappa no non posso bere quando se lavoro che bravo ragazzo arrivo corri 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 e cavallo stai zitto c'è gente che dorme chissà poi chi è che dorme vabbè chissà se lele in casa lele dove sei ahia ho sbattuto la testa ahia ecco oh ciao ascolta e hai visto mario no però visto un bigliettino che c'è questo per te dove sul tavolo si ciao ragazzi sono partito per andare a trovare dell'attrezzatura per la farm in mia assenza tenete d'occhio la farm continuate i lavori via dicendo ciao ciao eh eh bene ottimo è andato a prendere si è andato a trovare dei mezzi interessante buono ecco perché non si era più visto in giro e c'è una bottiglia d'acqua per caso ah no totti tiene un po di vodka come un po di no non può bere me quello la mentre lavora il cammello l'accia sete però la vodka non va bene mica lo so no dai dammi una bottiglia d'acqua dai no prenderà qua grazie cosa stai oh cos'è sto profumo carbonara come carbonara eh sì tanta roba carbonara ma dopo vado a portarla col cammello questo cammello torna al campo mamma mia ho smaltito già tutta la cena di di natale alè ciò papà tiene l'acqua grazie oh sai dove è sparito mario perché ha sparito mario eh sì è un po di tempo cioè un po di tempo è già boh non so è da stamattina che io non lo vedo quindi beh vabbè comunque ha lasciato un biglietto con scritto che è andato a trovare dell'attrezzatura per la farm e nel frattempo ha detto tiriamo avanti noi l'azienda e adesso vediamo cosa c'è da fare speriamo tornare in cento e con dei mezzi di cento eh speriamo ascolta ma te hai finito da rare qua si e stavi venendo a casa si e tu mi hai fatto correre per portarti l'acqua che stai venendo a casa certo ok guarda un attimo la scritta 1300 dt del fiat infame aia fanculo guarda aspetta a casa che è la minaccia tiè guarda guarda il dito medio guarda piace ma d'ostale che avevo detto che stava arrivando vai laggiù e dai muoviti oh hai fatto si guarda guarda questo metti da giù il capannone dopo glielo spieghiate a mario perché questa colonna l'hai ammaccata eh non c'entro niente eh no dai su ancora un po' ancora un po' occhio alla balla di fieno eh ancora un po' basta lascialo lì basta ha distrutto la ruota tutto va che rimane oh dai metti sotto anche il trattore che lele ha preparato la carbonara ehi davvero eh dai muoviti meno male mi è tanto a cacare la casa oh dai mo dai che andiamo a mangiare senti io a quel trattore gli faccio un bel lavoretto eh cioè il sedile eh che c'ha troppo duro eh ti piacciono le cose eh no vabbè eh no vabbè vabbè ma scusa o ci metto al cuscino o faccio fare imbottitura da dal tappeziere fa quel che ti pare cioè per quello che mi interessa a me dov'hai lele? lele! ciao lele! ciao! è pronto da mangiare? si e vai perfetto questo sale in piedi sul tavolo poi inizia che cavolo sta facendo dai perfetto si mangia quindi? ah vedi te? ma hai già scolato? ovvio bella tanta roba vai Ale la tavola allora oh veramente buona quella cavolo di carbonara bravo lele grazie grazie ho fatto da casa ho fatto da noi ho fatto da noi a casa più che altro vero? era spaziale eh c'ho la panza che sta scoppiando c'hanno mangiato un quintale però se lo solamo fra un po' eh 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 esatto allora torniamo sul trattore eh? allora torniamo sul trattore no no io non c'ho coraggio a stare sul trattore con me se lamenta ma secondo me Ale manco ci entra più nel trattore c'è si lamentava del sedile duro ma tra poco non ci si siede più ascolta non ti è bastato il calcio di prima che ti ho dato? no ah ok e vabbò dai allora cos'è cos'abbiamo da fare adesso? io c'ho un attimo vuoto di memoria e allora mi avevo ordinato i mezzi che sono andato a ritirare ah ok perfetto ma ho visto anche che c'è il campo di patate avevi noleggiato anche la roba per le patate? esatto oh tanto ed è già arrivato tutto? si dai bella perfetto e allora se giù a... due mesi che ho ordinati e vabbè oh ascolta vabbè e niente andiamo a prendere la roba che ne so solo che cosa dobbiamo andare a due piedi? facciamo due passi? si eh tu ne hai bisogno smaltiamo la carbonara ma non avete una macchina voi? niente dobbiamo andare a piedi? ci siamo dei straccioni dai via qua ti ho portato a cavaceo dai no vai via portato a cavaceo via? ma no 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 vai via io scappo no no io scappo mica scemo io corro più veloce guarda corro anche lì indietro più veloce di te e salto anche ah ah guarda ma insieme a una carbonara cosa hai bevuto? cosa hai bevuto insieme a una carbonara? fate volte che mi sa non si beve quando si deve lavorare lì io stavo a lavorare stavo a mangiare ah eh eh vabbè eh lol ok qua non c'è nessuno via attraverso ah e questo l'ho scioperto? io stavo senza guardapaffo friga ok asanto mi sono fatto un'assicurazione sulla vita hm è andato un mese e mi metto sotto un san grassa nero ma scusate una cosa ma eh questa livellatrice? che bella mh mh chissà se un giorno anche noi l'avremo mh ma si dai bisogna fare buffi può essi eh esatto ma lele dimmi ha il tipo dello store? non c'è? non è andato a mangiare e hanno scelto le hanno scelto le chiavi sul aspetta eh cosa si chiama qua? sullo scaffale ah ok e quindi ma aspetta ma noi cosa avevamo ordinato l'ultima volta? lo strattore eh qua ce ne son due i deus mi ha detto che hanno sbagliato a prendere loro e niente ci danno questo ah va andare no? vatti a fidare i concessionari eh vatti a fidare i concessionari cacchio se va bene guarda qua mazza se è bello poi poi avevo ordinato l'attrezzatura e basta che io sappia mh però scusami eh se noi eh però a questo punto ci serve anche il deus però non si può configurare cioè non ha le ruote strette pestiamo tutte le patate eh no però se tu attacchi prima il macchinario quella che defoglia le patate eh ok davanti sono le pesti ah no si le pesti invece eh le pesti e quindi? quindi abbiamo questo bellissimo fend pure? ah ah devo stare a prendere la bicicletta però sto guardando la fattura sul telefono pure il fend dentro quindi possiamo prendere anche questo? mh ah ok tanta roba allora eh va bene portiamo su portiamo su e l'herpice che ti avevo detto? l'herpice? l'herpice fa vedere? fa vedere? si anche esatto e questo per cui? e questo si ammazza una disco nonder si esatto bello tanta roba solo che abbiamo due strattori e siamo in tre a eh vabbè io porto il fend eh io me la faccio a piedi va e quant'è sta al macchinario delle patate? esatto al massimo vado dentro al macchinario delle patate si ballo guardate la spinta non vuoi mettere in modo qua dentro se le tossiciamo tutti hm no c'è il sistema di aria azione Ale ah ok non sfondare il sedile del fend eh è nuovo ma chi mi ha preso? eh tu hai detto che sei aumentato a mangiare la carbonara quindi si è già digerito ma che ne sai ah ok ah a proposito com'è il sedile di quello? eh è duro anche quello? circa no oh ma oh lele dimmi dimmi cioè lui qua sotto al culo c'ha sempre del duro cioè non ci sa che un burro vabbè cioè lascia un burro così eh a caso però allora c'è lupo di lampeggianti io si per tre ah 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 andiamo Ale si wow belli sti mezzi mi sa che Ale sta tirando giú il portone dello shop no 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 eh ci ho passato pelo filo eh di fatto tanto pada mario al mozzo ah 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 a finir che quando torna ci tira le orecchie tutte e tre a te faccio ridere al calcio le faccio ridà ecco bello ma anche quella botta e anche quel rimorchio là dentro mi piace di rimorchia tu oh aspettatemi ciao lello aspettatemi infami c'è il posto passeggero che infami me la pagherete di tutti i costi al centesimo scusi lei mi presta la macchina non si ferma manco questo che infami me la pagherò stretto a cagare guarda il dito medio alzato guarda bello cavallino questi sono belli in forma belli mi piacciono questo qua grigio buona l'erba eh magna magna sembri alessio anzi adesso ti chiamerò alessio d'ora in poi piace eh il nome alessio eh eh ma che boh mangia come un bue oh allora vediamo se oh l'ha trovato il campo finalmente ah olio cuore olio cuore perfetto bello bello mi piacciono le patatosse mi piacciono le patatosse oh cos'è quello l'ha ale ale se ciao dall'altra parte ale wow guarda ma spettacolo wow è questo che figata io lo seguo figo bello eh io lo seguo no come lo segui io a piedi e poi vai a tornare a piedi ma chi è non lo so però è bello col mezzo mazza è bello però eh bello 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 ma chissà mario magari lo conoscerà boh anche però per comprarsi un macchinario del genere ne avrà di soldi eh bello 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 vai ale adesso ti tengo giù lo stipendio tutti i mesi dopo ci compriamo anche noi quello lì eh sei d'accordo vabbè come vabbè no come no era ironico il vabbè ah ok come sei messo con le patate con le patate ho insomma macchinario è una favola anche il campo l'hai trovato finalmente dopo che ha distrutto mezza farm vabbè ci faccio più pazienza balli vai ma ascoltano hai visto lele perché dopo che siamo partiti qua non l'ho più visto parco io o si è perso per strada qua spariscono tutti io non lo so boh vabbè perché mai chi ha visto magari mai con loro lo sanno vai vabbè miam 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 riprova anche se si scrocia un'altra volta eh guarda adesso vola di sotto guarda eh si ma vola liscio non ce la fai non ce la fai ma ti posso fare una domanda dimmelo da dove sei salito ah 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 io sono io sono superman olei che sei tu superman 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 non ce la fai non ce la fai ah 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 posto ma suppostamente guarda alle piacerebbe essere qui sopra con me non ce la fai già fai o la che sdentata dei denti e non morire però è tornato l'ultima prova che dopo riniziamo vediamo la sdentata ecco anche quello